Devo leggere qua? Oggi ho fatto ginnastica, cammino come se avessi Le uova Perché abbiamo preparato testi E non ci vedo A proposito di Forse aspetta un attimo Sesso solitario Abbiamo invertito Ecco qua Non ci vedo più Eccolo qua, ci vedete? Emo sì E quindi Vi introduco Da Uomini e Donne di Maria De Filippi Leggono Nancy e Vincenzo Prego Ma io Ma io assolutamente Io non voglio paragonare Il mio cane a mio nonno e mia nonna Assolutamente, sicuramente Federico Vai a fanculo Perché? Perché io dopo questa Marzo e me ne vado Oh, dove va? Vai qua No, no, vai via Federico Vai via Vai via Ma perché? Perché? Mi dici che c'è di strano Senti, vai via A me mi porti a A me mi porti a conoscere il cane E a lei i nonni Ma che stai dicendo? Ma va, va Ma che ho scelto a te? Che ho scelto a lei? Non mi va più di stare qua Ok? Va bene? Ma no, ma perché mi dovete Bazzare su queste cose? Non mi prendere in giro Ma che c'entra? Non mi prendere in giro Va bene? Allora, senti A te ti ho presentato il cane A lei gli ho presentato Mia nonna e mi nonno Magari io scelgo Dalila Che non gli ho presentato nessuno Ma perché vi dovete passare Su queste cose? Appunto Mi dà fastidio? Va bene Mi può dare fastidio? Mi può dare fastidio? Posso? Mi vuole fastidio? Posso? Io comunque te voglio bene E te ho voluto bene E te ho voluto presentare il mio cane All'Eliana Gli voglio bene E gli ho voluto presentare Mi nonno e mi nonna Ma qual è? Qual è la differenza? Ma se S'ho fatto pure sporcare dal cane Va Entriamo dentro un attimino No, non mi va più Voglio andare a casa Vabbè Che ti devo fare? E allora vuol dire Che non ti interessa più Fa proprio schifo Fa proprio schifo Mi fai Ti devi vergognare Ma tu mi devi ringraziare Che ti ho pure presentato Nerone Che non lo presento Mai a nessuno Mi stai a prendere per culo La deficiente Dunque se Shakespeare non avrebbe Questo è Ragazzi Travoloso Allora Mi ringrazio Questo è un dialogo vero Tra Federico e Pamela E quindi Questo si diceva no? Questo si diceva no? Irraggiungibile Uno non potrebbe mai scrivere Ma come scrive una commedia Non ho mai Nerone Ma chi è Nerone? È drammaturgia contemporanea ragazzi Non siamo tutti niente conto? No È meravigliosa Cioè io Nerone Non l'ho mai presentata a nessuno Ringrazio a Dio che l'ha già presentata È fantastico È fantastico È sublime Grazie